Per chiudere un vano occorre realizzare un perimetro chiuso con gli involucri. Chiudi un vano utilizzando anche i pilastri. Modelli non considerando i pilastri, raccordi gli involucri tra loro. Modelli considerando i pilastri, fermi gli involucri sul bordo dei pilastri. Comunque modelli, puoi sempre decidere di considerare o meno i pilastri nella chiusura del vano. Quando il comando è disattivo, alla chiusura del vano, non concorrono i pilastri. Per chiudere il vano, devi raccordare gli involucri. Con il comando attivo, alla chiusura del vano, concorrono anche i pilastri. In questo caso, comunque si modelli, il vano risulta sempre chiuso.